A fine della partita ragazzi un pareggio combattuto dal inizio alla fine Cominciamo a cantare un pipita Allora, la tua squadra se ne è cominciato a finire l'ultimo Purtroppo un caldo di concentrazione alla fine E questo pareggio che a mio avviso diciamo che sta bene Cioè non sta bene, nel senso che è meritato Perché comunque avete giocato tutti e due bene Però dovete essere più attenti Sì sicuramente diciamo Loro hanno tirato secondo me anche un po' meno di noi Forse unico vero tiro, forse qualcosa in più Però abbiamo sicuramente questo caldo di concentrazione Come dici tu che non ci sta secondo me Già la seconda volta ci facciamo recuperare nel finale Almeno il fatto l'abbiamo perso Però dobbiamo lavorare su questo Cioè bisogna di correggere la tenuta mentale fino alla fine Esattamente Una partita intera in comando e poi di nuovo ci facciamo recuperare Ti faccio comunque i complimenti per questa grande gara Perché avete fatto veramente una bella partita Però il risultato non vi ha appena questa Buon caldo a me nel massimo Buon caldo a me E allora come diceva lui Una partita combattuta Si è giocata fino all'ultima E siete riusciti a trarumareggio sul finale Sì siamo riusciti a riacciuffare la partita in estremis Comunque secondo me è un risultato Tutto formato meritato Dobbiamo cercare di creare di più in attacco Non riusciamo a Compiere giusti i movimenti Certo di essere più aggressivi Dovete essere sicuramente più cini Soprattutto meno nervosi Perché il nervosismo non porta mai niente Sì Dobbiamo essere più concentrati Più concentrati La partita Sì questo sicuramente Dovevo pensare solo a giocare Non ai screzi Comunque Le cose così La squadra si diceva Sì almeno ho visto Il cuore comunque La squadra è riuscita appunto A recuperare la partita sul finale Meritatamente Ti faccio i complimenti Perché questa gara Giorta una bella rossa Grazie Grazie